Bentornati carissimi amici miei in questa puntata 227 di Snap Architettura Imperfetta che vi racconta la coevoluzione della tecnologia e dell'architettura. Abbiamo iniziato benissimo questa stagione autunnale con il grandissimo Mariano di Benedetto che ci ha raccontato i pro e i contro, luci e ombre e soprattutto ray tracing di quello che si può fare per il rendering con l'hardware Apple Silicon. È stata una bella puntata, mi è piaciuta davvero tantissimo e credo che sia piaciuto anche a voi visto anche dal fatto che state partecipando al sondaggio che ho lasciato su Telegram. Penso che nella metà della settimana in cui sta uscendo questo podcast dovrei aver messo anche il sondaggio su Instagram quindi partecipate anche lì, se non mi seguite su Telegram fa comunque lo stesso e spero che abbiate passato delle belle vacanze riposanti e rilassanti. Dal mio punto di vista purtroppo non è andata proprio proprio come volevo complice il fatto che è stata una estate molto faticosa ma più che altro dal punto di vista psicologico perché è stata molto molto introspettiva e come tutte le cose psicologiche non è che era molto voluta però è servito ma non mi ha lasciato modo di riposare la testa quindi parte un po' affaticato in quest'autunno sperando che il lavoro fatto durante l'estate possa servire a farmi riposare di più ma tralasciando le vicende personali psicologiche barra menate volevo dare il benvenuto a Francesca e a Fabio sul canale Snapper di Telegram benvenuti siete sempre ben accetti in questo canale in cui si parla del più e del meno lo potete trovare su Telegram si chiama Snapper Architetti e dovreste trovare anche il link all'interno delle note dell'episodio altra persona da ringraziare come sempre col cuore che mi è stato sempre sempre vicino e non pago di questo ha fatto un'ulteriore donazione a questo podcast ovviamente sto parlando di Michele il mio amico di lunga data che mai mi abbandona e che dà sempre il suo supporto in ogni modo possibile grazie davvero di cuore Michele per quello che fai per me come avrete notato in quest'estate non ho rilasciato alcun speciale per Snap ma bensì ho rilasciato assieme all'amico Filippo Strozzi uno speciale estivo per A2 Podcast in questo speciale che abbiamo registrato in presenza abbiamo parlato delle rispettive novità hardware Filippo ci ha raccontato la sua nuova scrivania basculante chiamiamola così ovvero sono quelle che si alzano elettricamente con un motore elettrico e quindi permettono di alzare il piano di lavoro e riuscire a lavorare anche in piedi che è davvero molto molto utile ma un'altra cosa che ha fatto Filippo che sto sintetizzando qui è che ha messo delle rotelle sotto questo tavolo e ha messo anche un gruppo di continuità quindi lui praticamente può andare in giro per la casa e essere essenzialmente indipendente invece per quanto mi riguarda ho raccontato un po' come è andata l'upgrade con il mio nuovo MacBook Air 13 pollici M2 dei pro, dei contro e soprattutto della mia esperienza diretta in tal senso invece dopo lo speciale estivo di cui vi ho appena parlato abbiamo fatto un'altra puntata che è dedicata al value for value e alle criptomonete sempre con A2 Podcast e Filippo il value for value è un modello di monetizzazione un formato di contenuto e uno stile di vita che si aggancia essenzialmente a quello che viene definito il podcast 2.0 la soluzione ipotizzata è che non c'è nessun uomo in mezzo ovvero che la transizione va direttamente al podcaster dietro al podcasting 2.0 c'è una directory aperta che quindi non si appoggia su Apple, Spotify, Google o Amazon e via discorrendo si chiama Podcast Index ed è una directory aperta come vi dicevo con la promessa di rimanere aperta in quanto è crowdfunded invece value for value si appoggia sul pagamento ai creatori per i loro contenuti sappiamo che Apple ha un'opzione premium ma questa è bloccata su Apple Podcast mentre Spotify ha connessioni a sistemi di abbonamento di terze parti ma ancora una volta si viene bloccati su quella piattaforma ci sono altri sistemi come Patreon e altri servizi mentre il podcasting 2.0 permette di ricevere pagamenti sulla rete Bitcoin Lightning e mentre si ascolta si può dare un boost ai propri programmi preferiti con 100 satoshi per chi non lo sapesse un Bitcoin è circa 100 milioni di satoshi ma non solo permette anche di trasmettere in streaming un satoshi al minuto al tuo programma preferito e questo equivale a dare un pagamento diretto al podcaster e può anche essere ovviamente gestito in frazioni di Bitcoin se volete provare ad usare anche questo metodo per sostenere Snap potrebbe essere interessante più che altro per sfruttare una nuova tecnologia a proposito di esperienze dirette vi volevo raccontare che ho messo una nuova pagina sul mio blog personale che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com che si chiama Now si tratta di una pagina abbastanza personale ma essenzialmente si tratta di uno strumento di comunicazione più snello e veloce con poche righe e di ispirazione nel lavoro in questo momento nello studio ma anche nella vita in generale in cui vi parlo di strumenti, libri, canali YouTube, podcast e tanto altro ancora vi lascio anche di questo il link all'interno delle note dell'episodio andate a sbricciare ogni tanto l'idea è quella di aggiornarla settimanalmente ma la vedo dura diciamo due volte al mese potrebbe essere un traguardo un po' più raggiungibile in questo senso e visto che abbiamo parlato di podcast vi racconto anche che ho finito il libro di Matteo Scandolin che appunto dedicato alla costruzione di un podcast l'ho trovato molto interessante nonostante una buona parte di argomenti li conoscessi già tra il fatto che ho iniziato da autodidatta e un po' col supporto di Matteo ma ho trovato anche altre idee molto interessanti e altre cose da imparare se tra di voi c'è qualcuno che vuole iniziare la carriera da podcaster direi proprio che questo mi sembra il libro perfetto per poter partire e iniziare la vostra carriera non ho letto solo questo vi do anche questa nota di colore ho letto anche il libro su con la vita Charlie Brown è un libro molto particolare perché è fatto da uno psicologo che però aiuta a leggere in modo più dettagliato e molto più introspettivo le vignette di Charlie Brown appunto libro leggero nel senso che va via in un attimo perché grazie ai fumetti che ci sono all'interno delle pagine si riesce ad associare l'idea psicologica e all'aiuto che può dare una nuova visione di quello che viene detto all'interno di queste vignette ma soprattutto quando si rapporta con la vita reale libro leggero libro che vi consiglio perché fa veramente ridere da una parte e riflettere dall'altra ovviamente il fumetto di Charlie Brown è uno dei miei punti fondamentali della mia adolescenza e mi ha fatto davvero piacere rileggerlo e lo trovo sempre stupendo tra le altre cose che vi voglio raccontare in questa puntata c'è un'applicazione che mi ha consigliato il grandissimo Nicola lo sito e si chiama Latest si tratta di un software update checker per macOS che permette di tenere sotto controllo e aggiornate tutte le applicazioni che però non rientrano all'interno dell'app store in questo modo riuscite ad avere le applicazioni sempre aggiornate c'è qualcuno che lo controlla per voi senza la perdita di tempo di trovare il pop-up di avvertimento e di aggiornamento quando aprite l'applicazione in questo modo riuscite a tenere tutto quanto sotto controllo è gratuita e vi consiglio di scaricarla e usarla sicuramente ne troverete giovamento e per questo ringraziamo tutti quanti Nicola lo sito per questa bella dritta che ha dato a noi utenti del Mac e a proposito di contributi che arrivano dalla sfera degli snapper ringraziamo Daniele Borghi del podcast il tiraline che chiaramente vi consiglio di seguire per un articolo che mi ha consigliato per snap si tratta di un articolo che riguarda Barcellona che è rinomata per la sua eccezionale squadra di calcio l'architettura mozzafiato e le tapas squisite ma è anche l'orgoglioso proprietario della tecnologia Lenovo nel 2014 questa tecnologia ha trasformato Barcellona in una città intelligente una città che utilizza tecnologie avanzate e analisi dei dati per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini migliorando la sostenibilità e i servizi urbani da allora Barcellona è diventata una delle città più efficienti del mondo consentendole di risparmiare denaro promuovere la sostenibilità migliorare la gestione dei rifiuti e migliorare la vita metropolitana la tecnologia non viene solo costruita nelle città esistenti in tutto il mondo si possono vedere i piani e l'inizio delle costruzioni di città distretti e nuove capitali tutti progettati in modo da sfidare i modelli di pianificazione urbana convenzionali ad esempio The Line una città intelligente è pianificata nella provincia di Tabuk nel nord-ovest dell'Arabia Saudita destinata a coprire un'area di 26.500 km The Line situata a Neom è un mega sviluppo costruito da zero e installato con tecnologia intelligente la prova che qualsiasi città può essere una città intelligente giovane o vecchia che sia ma come sapete non ho un punto di vista molto favorevole a questo tipo di urbanizzazione mi lascia davvero molto molto perplesso e ne abbiamo discusso anche sul canale Snapper di Telegram tornando a Barcellona Lenovo ha sviluppato soluzioni di trasporto intelligenti che hanno migliorato il flusso di traffico ridotto la congestione e le emissioni e migliorato l'uso del trasporto pubblico il data mining in tutta la città ha permesso la raccolta di informazioni in tempo reale sull'infrastruttura di trasporto delle città rendendo la città più efficiente la città ha migliorato i sensori intelligenti nei trasporti che hanno incluso linee di autobus semplificate riduzione della congestione flusso di traffico ottimizzato e miglioramento dell'uso del trasporto pubblico in generale inoltre nel proseguimento di un futuro più sostenibile Barcellona ha intrapreso l'ambiziosa missione di creare una vasta rete di veicoli elettrici con l'intenzione di rendere questa modalità una modalità standard di trasporto privato in tutta la città mentre questa transizione richiederà tempo e fatica Barcellona ha già fatto passi da gigante installando oltre 300 punti di ricarica convenientemente posizionati ciò facilita l'adozione senza soluzione di continuità dei veicoli elettrici integrando progressivamente questi veicoli nel suo panorama dei trasporti mostrando una costante dedizione all'adozione di pratiche sostenibili e alla riduzione significativa delle sue emissioni di carbonio puntando verso un futuro più sostenibile ad esempio Barcellona ha implementato un sistema intelligente di smaltimento dei rifiuti in cui i residenti possono smaltire i loro rifiuti domestici in bidoni intelligenti e qua ho immaginato che il bidone fosse dotato di piedi e una volta che viene messo all'interno il rifiuto questo si alza prende e va verso un luogo di conferimento ma questa è una mia idea tecnologica futuristica e anche un po' fumettosa e mi sembra il caso di ritornare alla realtà dicendo che questi bidoni invece utilizzano la tecnologia del vuoto per trasportare i rifiuti sottoterra per lo stoccaggio un approccio che riduce al minimo l'inquinamento acustico e consente alla città di monitorare meglio i livelli di rifiuti facilitando a sua volta una raccolta efficiente degli stessi un altro punto molto interessante è quello che riguarda l'efficienza energetica di una città vi ricordo che l'agenzia internazionale dell'energia vede l'efficienza energetica come uno strumento fondamentale per alleviare la pressione sull'approvvigionamento energetico e ha il potenziale di ridurre per circa il 40% del gas serra quindi non sorprende che il controllo dell'efficienza energetica sia stata una priorità nell'adattamento delle infrastrutture di una città per diventare più sostenibile a Barcellona la tecnologia intelligente è stata utilizzata per installare CityOS un'infrastruttura di dati aperta la cui tecnologia ha permesso al Consiglio Comunale di distribuire le risorse municipali in modo più efficiente sia per quanto riguarda trasporti energia o consumo d'acqua un altro aspetto molto interessante è il trasferimento di conoscenze che si è dimostrato uno strumento vitale per migliorare la sostenibilità di una città a Barcellona i cittadini hanno accesso illimitato alle informazioni sulle iniziative di sostenibilità della città con questa conoscenza i cittadini possono esercitare un livello preciso di pressione sul comune e quindi i pianificatori e direttori sono tenuti a rispondere quando implementano iniziative sostenibili indubbiamente questo tipo di utilizzo della tecnologia all'interno di una città come Barcellona secondo me è davvero interessantissimo ringrazio il nostro amico Daniele Borghi per averci fatto conoscere questo articolo e soprattutto abbiamo scoperto come la tecnologia può entrare veramente in modo migliorativo all'interno di una città soprattutto quando la si utilizza nel modo corretto prima di passare alla seconda parte di snap vi ricordo che potete trovarmi su linkedin twitter mastodon o instagram sul mio blog personale mac architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net .wordpress.com o sul blog di graphisoft italia oltre a questo podcast mi potete ascoltare anche su archicad talks sempre di graphisoft italia dedicato agli appassionati di bim della digitalizzazione e della progettazione oppure in a2 podcast con l'amico filippo strozzi in cui raccontiamo come sfruttare produttivamente la nostra tecnologia apple infine potete vedere anche qualche mio video sul canale youtube architetto digitale e se invece vuoi contattarmi e hai bisogno di consulenza oppure vuoi sponsorizzare il podcast troverai tutti i link nelle note della puntata in questa seconda parte di snap vi racconto una novità che riguarda l'app co-design precedentemente chiamata spaces ve ne ho parlato più di una volta di questa applicazione e sempre molto interessante diciamo che è quel punto di unione tra il disegno a mano e un modello bim ma co-design non si è fermato a questo tipo di integrazione siamo arrivati addirittura a integrare l'intelligenza artificiale generativa in pratica si tratta come sempre di fare il proprio modello tridimensionale disegnandolo con la pencil e poi si può decidere una vista e usare l'intelligenza artificiale integrata all'interno di co-design per esplorare più opzioni che riguardano il paesaggio intorno anche in questo caso come nei migliori tool di generazione di immagini da testo c'è un bel prompt che permette di ottenere delle immagini molto interessanti co-design intelligenza artificiale è disponibile però per gli abbonati co-design professional e quindi non è disponibile per quelli gratuiti in ogni caso rimane un'opzione molto interessante per la progettazione con ipad e pencil cambiando argomento andiamo a vedere un po' un riassunto per quanto riguarda il sgraf 2023 in cui possiamo concludere che la computer grafica sta cambiando in modo esponenziale in questo momento infatti è molto importante considerare i progressi dell'intelligenza artificiale in tutti gli aspetti della pipeline dal desktop al server la visualizzazione sta cambiando con un unico formato compresi gli strumenti di intelligenza artificiale che semplificano il lavoro e la progettazione per essere più veloci ed efficienti si dice in giro che nvidia abbia cambiato il volto dell'intelligenza artificiale con la sua gpu il mondo delle costruzioni sta già vedendo questo cambiamento con twin motion unreal engine e unity autodesk ora fornisce una licenza di twin motion con l'acquisto di revit i gemelli digitali stanno cambiando il modo in cui le grandi aziende stanno progettando le loro fabbriche magazzini e impianti di produzione e sono una grande parte dell'industria del mondo delle costruzioni impianto e infrastrutture è molto più economico trovare un errore in una fase di progettazione specialmente se sono errori strutturali o di ingegneria ad esempio utilizzando una copia digitale piuttosto che trovarlo in cantiere e questo lo sapete benissimo sappiamo benissimo che apple rilascerà presto i visori vision pro portando l'universo mac nel metaverso se apple vision pro sarà un successo questo accelererà l'innovazione e la crescita nel metaverso il formato usd è qui per rimanere ma non solo soprattutto l'open usd come abbiamo detto nella scorsa puntata con mariano di benedetto mentre l'intelligenza artificiale e il machine learning saranno ovunque se non lo è già in questo momento possiamo definire tranquillamente che questo è il futuro di come lavoreremo socializzeremo e creeremo oggetti e case e se siamo ancora qui a raccontarci della tecnologia che continua ad avanzare vi consiglio di andarvi a vedere un bellissimo video su youtube che riguarda il TEDx non è un TEDx a caso perché c'è niente meno che la dottoressa Marzia Bolpagni responsabile del international BIM e direttore associato di Mace che ha tenuto una conferenza TEDx incentrata sul BIM e sull'etica dei dati questo TEDx si è tenuto a Brescia che tra l'altro è anche la città natale della dottoressa Bolpagni nella presentazione di 15 minuti a un pubblico laico la dottoressa Bolpagni ha evidenziato l'impatto benefico che i dati possono avere non solo per l'industria ma anche per gli utenti finali dell'ambiente costruito tuttavia ha rafforzato la necessità di utilizzare i dati in modo etico ha detto al pubblico aperte virgolette vogliamo digitalizzare la costruzione ma solo se ciò accade in modo etico solo se la tecnologia e i dati vengono utilizzati per aiutarci a prendere decisioni informate sulla qualità degli ambienti in cui viviamo sulla sicurezza della scuola dei nostri figli sui ponti che vogliamo attraversare per non essere venduti a qualcuno che ha interesse a venderci un prodotto o un'ideologia sosteniamo le iniziative per la digitalizzazione dei piani di manutenzione e di rischio dell'infrastruttura ma chiediamo che questi dati siano utilizzati in modo etico vogliamo costruire non solo con mattoni e materiali da costruzioni ma anche con i dati chiuse virgolette al di là del TEDx la dottoressa Bolpagni ha spiegato aperte virgolette la sfida di TEDx è condividere idee che possono motivare le persone ad agire indipendentemente dal loro background credo che questa sia stata una delle fasi più importanti in cui ho parlato perché se vogliamo apportare un cambiamento nell'edilizia abbiamo bisogno di una più ampia consapevolezza del ruolo che il nostro settore ha nella lotta al cambiamento climatico e di come i dati siano la chiave per prendere decisioni tempestive e informate se usati in modo etico la reazione è stata molto positiva dopo il discorso diversi partecipanti mi hanno detto che era illuminante perché non hanno mai pensato alla costruzione in questo modo allora è piaciuto il modo in cui ha spiegato argomenti complessi in modo semplice con esempi reali ora che il video è pubblico da TEDx ho anche ricevuto ulteriori feedback positivi principalmente da professionisti che hanno trovato che la narrazione è molto coinvolgente ed ispirazione su come parlare con i clienti colleghi e utenti finali che sono ancora scettici sul potere della tecnologia ed elettica nell'edilizia chiuse virgolette vi invito quindi ad andare a vedere questo bellissimo video e poi ovviamente ci ritroviamo sul canale snapper di telegram per parlare anche di questo argomento argomento che tutto sommato ne abbiamo parlato almeno da 5 anni qua su snap e sono molto contento che anche nel TEDx sia sdoganato questo misterioso chiamiamolo così argomento del BIM e soprattutto che ci siano stati dei feedback positivi perché ho parlato di questo oggetto misterioso che si chiama BIM diciamo che è la conclusione che nasce dalla lettura del report a su BIM questo report è nato da un questionario per comprendere a che punto è la diffusione del BIM nelle pubbliche amministrazioni il questionario è coinvolto un campione di tecnici in particolare dipendenti comunali comprendente ingegneri geometri e architetti la maggior parte del campione intervistato si occupa in prima persona di progettazione per il 57% e direzione lavori per il 52% la domanda del questionario si focalizzavano in particolare sulla conoscenza del BIM sulla sua integrazione e sviluppo nelle pubbliche amministrazioni e sulla possibilità per i tecnici di fare formazione da questionario è emerso che solo il 16% del campione non conosce la metodologia BIM ma allo stesso tempo che solo un terzo degli intervistati ha partecipato a corsi di formazione e che quasi nessuno di essi possiede certificazioni in ambito BIM viene inoltre messo in evidenza come gli intervistati sono consapevoli dei vantaggi del BIM ma dalle loro risposte si nota anche una difficoltà di integrazione della metodologia BIM nel quadro delle attività svolte dagli enti pubblici segnalata dal 51% del campione nel 80% dei casi gli intervistati evidenzano inoltre il mancato utilizzo di piattaforme BIM negli enti locali ma soprattutto la mancanza di disponibilità da parte degli stessi enti di investire in piattaforme e software specializzati direi che il quadro non è proprio dei migliori ma se avete ancora dubbi per quanto riguarda l'utilizzo del BIM all'interno delle pubbliche amministrazioni vi rimando al podcast registrato con Stefano Mare della regione Liguria in cui ci parla di come ha utilizzato il BIM all'interno di una pubblica amministrazione e soprattutto dei vantaggi a tutto tondo che ha ottenuto grazie a questa tecnologia per concludere questa puntata andiamo a leggere un articolo insieme che ci ha segnalato Alessandro sul canale snapper di telegram che riguarda Intel la notizia è che Intel investe in ARM in realtà molte cose sono cambiate da quando il sia dell'azienda di Santa Clara Pat Gersinger ha annunciato la nuova strategia IDM 2.0 IDM è un acronimo che sta per Integrated Device Manufacturer e vuol dire semplicemente che Intel produrrà chip per conto terzi già da aprile 2023 Intel e ARM avevano firmato un accordo multigenerazionale che vede la società di Gersinger impegnata nella realizzazione di chip ARM moderni basati sul nuovissimo processore a 18 Angstrom ovvero 1,8 nanometri con l'introduzione della strategia IDM 2.0 Intel ha creato l'unità separata IFS dedicata alla produzione di semiconduttori su commissioni per terze parti questa divisione offre servizi di produzione di chip avanzati a clienti esterni che desiderano sfruttare la capacità di produzione di Intel per creare i propri semiconduttori personalizzati il vicepresidente senior e general manager dei servizi di fonderie Intel ha annunciato che la sua azienda si accinge a partecipare attivamente all'operazione con cui la proprietà di ARM cede parti delle redini a un gruppo di investitori e azionisti Stuart Pan infatti ha spiegato che per Intel l'investimento in ARM è di importanza cruciale sia in ottica IDM che per l'unità specializzata nei dispositivi FPGA inoltre il set di istruzioni ARM è adottato in una vastissima gamma di applicazioni e come sappiamo questi chip basati sull'architettura ARM alimentano anche sistemi desktop notebook e server sempre Pan aggiunge a parte virgolette il fatto che la nostra organizzazione stia abbracciando ARM a questo livello investendo in ARM e facendo partnership con ARM dovrebbe darvi un segnale che siamo assolutamente seri riguardo a questo aspetto perché se non si sta lavorando con ARM non si può essere un fornitore di soluzioni di fonderia chiuse virgolette tuttavia Intel affronta il tema della realizzazione di chip per altri soggetti perché come sappiamo sia ARM 64 che per 86 si intorna ormai il peso degli anni con tante caratteristiche legacy che ne appesantiscano significativamente il funzionamento è quindi opportuno diversificare e salire per tempo sul tema dei risk di per esempio indubbiamente è molto interessante questo cambio o perlomeno questa apertura di Intel che io ho sintetizzato sul canale se non puoi sconfiggerli almeno fateli amici e penso che questa partnership ci darà molto molto da pensare ma più che altro vedremo magari dei prodotti interessanti nuovi e soprattutto che porteranno forse Intel a nuove vette staremo a vedere come sempre qui su Snap Architettura Imperfetta ma direi che per questa puntata è davvero tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e Matteo Scandolina e che fa parte del network Random Radio la web radio geek ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta un podcast color grigio ciliegia